Ciao a tutti, oggi vi parlo di ammortizzatori ad aria e ammortizzatori a molla. Qual è il numero uno secondo le mie idee e studi e quali sono le caratteristiche di uno e dell'altro. Farò anche un po' di ceni sulle forcelle, visto che comunque le sospensioni sono due e lavorano sempre insieme. Iniziamo dal punto fondamentale, aria contro molla. La prima cosa che tutti sono in grado di osservare e di giudicare è il peso. Il peso vince tecnicamente l'ammortizzatore ad aria, se sei uno che fa cross country lascia perdere tutto, ma lo sai già, lo stai già facendo. Mentre se fai all mountain, trail, e-bike, downhill, molto probabilmente hai già iniziato a pensare questo. La seconda cosa, io direi la sensibilità. Se qualcuno ha una cartoleria per favore mi faccia una donazione di un pennarello perché questo fa veramente schifo, per i miei standard non va bene. Allora, sensibilità, che cosa significa? Significa che in una sospensione io voglio una cosa, voglio la ruota attaccata a terra perché questo mi permette di, la solita storia, frenare, accelerare, curvare, ovvero trazione. Per avere trazione io devo avere molta sensibilità, cioè non devo avere attriti. Da dove arrivano gli attriti in una sospensione, forse una forcella, boccole, tarate male, tanti o-ring all'interno che premono sulle camere e quindi strusciano, l'ammortizzatore stesso discorso. E quale dei due aria e molla ha il minor numero di o-ring, tecnicamente in visione molto facile e molto sempliciotta, ok? Quale dei due potrebbe essere più sensibile? Tutti ci arriviamo, il molla, ma perché? Perché se io prendo un'ammortizzatore a molla, l'unico o-ring fondamentale che esiste qua dentro è qua. Dentro posso avere altre cose che si muovono, eccetera, che fanno attrito, ma ci saranno anche nello stesso identico ammortizzatore che invece di avere una molla attorno alla parte idraulica avrà una camera d'aria. L'unico o-ring è quello principale, dello stelo principale. Quello d'aria invece ne avrà altri due in più, che sono quelli che tengono l'aria all'interno delle camere d'aria. Pertanto a parità di marca, a parità di tutto, un'ammortizzatore ad aria avrà sempre un attrito in più rispetto a quella a molla. Tra i due la risposta un po' più scientifica è che il molla vince sempre. Le regolazioni tra aria e molla è irrilevante. Qualsiasi ammortizzatore, di norma le marche fanno il modello ad aria e molla con le stesse regolazioni, quindi questo noi ce ne freghiamo completamente ed è un fattore che serve a poco. Invece il fattore molto più importante che ho lasciato per ultimo è la progressione. Allora, la progressione che cosa significa? Significa qual è la curva di un ammortizzatore a molla? Non è una curva, è una retta. È una retta perché l'elemento elastico fatto da una molla, se è avvolto in maniera costante, dà un ritorno, un valore, una restituzione di valore di chili di compressione, sempre moltiplicata per il numero di centimetri. È costante, quindi un centimetro, un chilo, due, due, tre, 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 e via dicendo. Parte a zero, cosa molto fondamentale, quindi appena appoggio una mosca sulla sella con la bici lì, lei si muove e va fino in su, in cima. Poi posso controllare da un certo punto in avanti, inserendo spessori esterni fisici, meccanici, posso controllare una progressione, dargli un po' più di brio finale, eccetera. Se ce ne dovesse essere bisogno, se la bici non ha già un suo leveraggio con una progressione, cosa che però avviene al 99% dei casi, chi più o chi meno. Quindi il molla va benissimo. L'aria, che com'è la curva di compressione dell'aria? È molto facile. L'aria parte più dura, a metà regressione e alla fine progressione. Quindi l'aria, a livello teorico, è un E, una S. Pertanto all'inizio sicuramente perdiamo della sensività, perché è più duro e inoltre perché ha più o-ring e quindi anche meno sensibile di suo, quindi ha meno trazione. Non ne usciamo, è così. Poi in centro tende un pelino a sfondare, perché ha una regressione, un'inversione di andamento della curva, dopodiché alla fine diventa progressivo. E questa progressione posso deciderla con l'inserimento di volumi fisici dentro la camera positiva, come tutti sappiamo. Quindi posso decidere se farlo così, così o così. Sta di fatto che a mio parere il migliore è il molla, perché parte da zero, ha una costanza in salita fino in fondo. Quello ad aria potrebbe avere delle applicazioni, qualora il telaio fosse con una curva di leveraggio regressivo, ma al giorno d'oggi, 2020, i telaio regressivi, che conosca io, sono zero. Quindi non ha senso. Una cosa molto importante che bisogna capire dell'aria rispetto a quello a molla è un fenomeno che avviene quando l'aria si comprime ad alte velocità. Se io prendo un ammortizzatore ad aria che ha fatto la sua bella S fino in punto di massimo e lo comprimo con una certa velocità, questa è la curva e arriverà, non so, dico io, 500 kg per essere compresso tutto. Va bene così, ok. Io adesso questo mono qui vado su un gradino a 30 all'ora, quindi genero una velocità non di andatura, ma di stelo. Lui si muoverà molto forte, molto veloce. Che cosa fa questo movimento veloce? Cambia, cambia la curva. Perché cambia la curva? Molto facile. Perché in fisica noi parliamo di effetto Joule-Thompson, che cosa significa? Che il gas, se io lo comprimo, si scalda. Se il gas io lo decomprimo, si raffredda. Ecco perché le bombolette di CO2, quando le spariamo nei copertoni, ci gira la mano, perché si sta espandendo il gas e si raffredda. Perché la forcella, quando la comprimo ad alte velocità, diventa più dura e quando la comprimo a velocità normale, più bassa, non diventa più dura? Io il gas l'ho compresso in tutte e due le volte, l'ho compresso fino in fondo, fondo corsa, però in una volta mi ha aumentato, l'altra no. Esatto, sapete perché? Perché questo, l'effetto Joule, il punto fondamentale era che doveva avvenire in trasformazione adiabatica, cioè senza scambio di calore. Bene, però l'ammortizzatore e la forcella, un po' di scambio di calore lo fanno. Perché? Perché la camera d'aria, se prendo una forcella per farvi vedere, è questa. Quindi è alluminio, l'alluminio è alta conducibilità termica e dissipa verso l'atmosfera. Bene, quindi se io la comprimo piano, il gas si comprime, per l'effetto Joule aumenta di temperatura, quindi aumentando di temperatura diventerebbe più duro, ma la gamma riesce a dissipare, e quindi la pressione non aumenta sostanzialmente. Infatti non è più una trasformazione adiabatica perché ha trasmesso all'atmosfera. Bene, invece se io comprimo veloce, questa trasformazione adiabatica viene alla grande, cioè senza scambio di calore. Perché? Perché la forcella non riesce in quel millisecondo, in quel mezzo secondo di compressione e ritorno, poi in estensione subito, non riesce a dissipare con l'esterno. Non riuscendo a dissipare il gas si scalda di più e lui aumenta la pressione, e quindi l'ammortizzatore e la forcella ad aria hanno una risposta che varia sempre in funzione della velocità di stelo. Di norma questa forcella, per esempio, ha la gamma dell'aria, che è questa, e il pistone li scorre dentro. Quindi tutta la gamba è l'unico elemento dissipante e barra sigillante con l'ambiente esterno, quindi avrà una capacità di dissipazione di un certo tipo. Se invece io dentro la forcella non ho la gamba dell'aria così, ma ho una cartuccia dell'aria, a quel punto a mio parere mi viene da dire che lei dissipa meno calore con l'ambiente esterno, perché lei è all'interno chiusa dentro un involucro. Potrebbe darsi che in quel caso lì si crei addirittura un indurimento ancora maggiore in compressione. Ma torniamo ai mono. Il problema sono i mono. I mono sono piccolissimi e tra l'altro hanno delle camere una dentro l'altra. Questo qui addirittura ne ha due. Già hanno il volume piccolo. In più ho alte pressioni di inizio, perché con una forcella ci metto 50, 80 PSI, il mono c'è, ciao, il mono è minimo 150, dico io numeri, ok, sono tre volte. Quindi già parto con una pressione alta, in più non riesce a dissipare e in più prende delle botte anche di un certo tipo. La morale qual è? È che i costruttori hanno trovato un escamotage per limitare questo fenomeno dell'indurimento dell'elemento elastico dell'aria su botte ad alta velocità. Qual è questo escamotage? Avere le idrauliche, le HSC, High Speed Compression, alle alte velocità, leggermente più molli. Perché io, mi si indurisce di molla, bene lo scarico di idraulica. Quindi in teoria bilancio, però comunque a livello di progressione, a livello puramente nozionistico e tecnico, l'aria non è un elemento che comprimendola mi restituisce un valore sempre uguale. Quindi io preferisco la molla e l'idraulica me la taro come voglio ed è sempre uguale. Quindi la costanza e la progressione sono sicuramente in favore della molla. Ho nominato adesso la parola magica, finale, costanza. Tanto ci mettiamo una bella V su progressione. La costanza. La costanza, il mondo è venuto qua dentro dicendomi, ah finiscesa il mondo è diventato duro. È chiaro, si è scaldato come una bestia. Quindi si è scaldato come una bestia, è ovvio che è diventato più duro. Parte lì, cioè tutta la curva si sposta in alto. Quindi la costanza, non spendiamo molte parole no? Il molla vince. Siamo 3 a 1 sugli ammortizzatori. Le forcelle invece ricoprono un argomento abbastanza differente. Perché è vero che abbiamo quel discorso dell'indurimento sulle grosse botte, corregibile con un'idraulica un po' più aperta. Però lavorano a pressioni molto molto basse. Quindi gli o-ring non sono spinti tanto dentro nel camere. Fanno poco attrito, ci sono grossi volumi. Quindi a mio parere le forcelle, ho un grafico pronto, le forcelle sono molto molto buone. Anche se sono ad aria. E questo è il risultato. Ve lo disegno perché magari si vede un po' meglio. Lo ripasso con la penna. Questa è una forcella d'aria tirata al massimo come caratteristiche interne e praticamente mi fa una curva che è come la molla. Con una discesa lunga potrebbe scaldarsi eccetera eccetera eccetera, cambiare la risposta. Però io ho fatto dei test e l'ammortizzatore si scalda. Si scalda perché è molto piccolo, ha poco volume, dissipa tanta energia, in leva eccetera. La forcella, una forcella difficilmente si scalda. Quindi è abbastanza giusta, risponde abbastanza bene. Io ho deciso anni fa qual è la soluzione migliore. Io mi uso il mono a molla e la forcella ad aria. Questo era quanto. Mi raccomando se avete domande nei comments below, in basso Facebook, Instagram, YouTube, like. Grazie per il supporto. Ciao a tutti da Dave.